Eccomi, mi tolgo una curiosità, Volvo Charades la prossima, ci saremo? Io faccio di tutto perché non ci si possa essere, perché per noi sarebbe veramente l'evento più importante, perché è appunto planetario, perché è avventura, perché noi si possa portare il simbolo, il brand della nostra organizzazione in giro per il pianeta. È entrato già qualche grande sforzo interessato alla Volvo? Per ora stiamo semplicemente appunto sondando l'interesse delle grandi aziende italiane, perché l'obiettivo naturalmente è portare l'eccellenza delle nostre imprese, così come è stato per la nostra prima azurra, perché azzurra si chiamerebbe. Grazie, grazie.